Il noto cantante Albano Carrisi non riesce davvero a contenersi, quel «gesto» clamoroso nei confronti della figlia stupisce tutti. I dettagli Albano Carrisi non ha bisogno di molte presentazioni, perca diritti d'autore a uno dei cantanti del panorama musicale italiano, Pia Amato e apprezzato dal pubblico. Il suo ha un successo senza paragoni che si estende in lungo e in largo. Conosciutissimo sia in Italia sia all'estero ha una vera e propria stella. Le sue canzoni sono il simbolo del nostro paese. In coppia per molti anni con Romina Power, sia dal punto di vista professionale, sia nel privato, hanno fatto sognare intere generazioni. Da questo amore sono nati quattro splendidi figli. Altri due li ha avuti con Loredana Lecciso. Albano Carrisi, scherzi e risate con la figlia Christel Come abbiamo appena detto, Albano Carrisi ha papa di sei figli e nonno di tre splendidi nipoti. Il cantante, nel corso degli anni, ha dichiarato di essere stato un padre molto duro sebbene i lunghi periodi di assenza. Anche se in questa foto proprio non si direbbe. Il cantante di Cellino San Marco ha sempre affermato che la famiglia ha un bene prezioso che viene prima di qualsiasi altra cosa. I suoi figli e i suoi nipoti sono motivo di grande orgoglio e soddisfazione. Non si ha mai nascosto, Albano, e non ha mai nascosto le sue fragilità. Ha ammesso, infatti, di aver avuto molte difficoltà nel legare specialmente con la figlia Christel. Per loro ci sono stati tantissimi motivi di discussione e tanti periodi fatti di alti e bassi. Proprio come accade nelle famiglie normali. In questa foto, per a quadrato, emerge tutto il lato giocoso del cantante che ha stato immortalato in uno scatto buffissimo in procinto di dedicarsi alla sua piccolina. Oggi, i figli di Albano sono tutti adulti, ma al cantante piace ricordare di quando erano bambini. Maggiore Maggiore I rapporti tra genitori e figli sono sempre molto complessi, famosi o non famosi. Albano, dunque, vuole ricordare questi momenti fatti di spensieratezza e leggerezza.